Siracusa sempre più giù in tutte le classifiche, i giovani se ne vanno. Siracusa sempre più giù in tutte le classifiche e infliggere l'ultimo, per ora colpo, si è giunta alla situazione determinata dalla emergenza Covid. Per qualità della vita, secondo l'indagine del Sole 24 Ore, Siracusa ferma la 105esima posizione tra le 107 province italiane, perdendo nel 2020 15 posizioni rispetto al 2019. E nel 2021, ancora non codificato, la situazione non è certo migliorata, anzi, sempre peggio le infrastrutture, viabilità e ferrovie da quarto mondo, giusto per dirne una, ma la classe dirigente politica innanzitutto dov'è non pervenuta e il Comune dov'è a sprecare risorse per inezie insignificanti, spesso stravaganti, inutili, anzi dannose, e a perdere per strada altre risorse, a cominciare dai pochi fondi regionali ancora disponibili. Secondo l'indagine del Sole 24 Ore, 31esimo report sulla qualità della vita, come accennavamo in apertura, la provincia di Siracusa risulta nella 105esima posizione tra le 107 province italiane per qualità della vita, meno 15 posizioni rispetto al 2019. Sulla qualità della vita influisce soprattutto, innanzitutto, l'occupazione. Nonostante l'apporto della zona industriale, per quel che ne rimane, al tessuto economico della provincia, all'occupazione in particolare, la stagnazione è ormai permanentemente allarmante. Così, mentre il centro-nord si preoccupa per la disoccupazione oscillante, in quelle zone a macchia di leopardo fra il 12 e il 19%, qui da noi la disoccupazione è saldamente attestata intorno al 30%, con raddoppio al 60% per la disoccupazione giovanile. Aumentano i cosiddetti né-ne giovani che ne studiano, né lavorano. Manca assolutamente ormai la formazione. Dopo lo scandalo della solita regione che aveva centrato questo settore, facendone un regno del sottopotere e della dissipazione di risorse senza alcun risultato, il problema, anzi che risolto è stato archiviato, finché sia arrivati alla chiusura di tutti i centri di formazione, sia pubblici che privati, finanziati dalla regione, ma senza un modello alternativo funzionale, sicché tutti i giovani che per motivi personali o familiari smettono di studiare non hanno alcuna opportunità né di lavoro né di formazione, soprattutto non hanno un mestiere. Secondo le stime Istat, nel 2020 l'emergenza sanitaria ha determinato una contrazione del PIL provinciale di oltre il 9% rispetto al 2019. Il calo del PIL ha interessato i settori produttivi con intensità diverse. I settori che più ne hanno risentito sono stati quello petrolifero e quello turistico. Nel 2020 le imprese industriali, nel loro complesso, industria, costruzione industriale e servizi alle imprese industriali, hanno contribuito per il 53% alla formazione del valore aggiunto. Nel mercato del lavoro, nonostante un massiccio ricorso alla cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti, si è registrata una contrazione del numero di occupati che è interessato principalmente del settore turistico e quello del commercio. Nel settore industriale, il livello occupazionale e delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, rimanendo costante, ha fornito un contributo rilevante all'incremento del reddito disponibile delle famiglie siracusane. Nel periodo di sospensione delle attività non essenziali, causa lockdown, tra il 26 marzo e il 3 maggio 2020, le imprese della provincia di Siracusa hanno lavorato e hanno continuato da garantire un certo livello di occupazione.